L'ultima volta si era presentato in tribunale mercoledì scorso per firmare dopo il deposito della sentenza che lo condannava a 15 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato. Rasul Bissultanov, il ceceno che sferrò il calcio mortale alla testa di Nicolò Ciatti quella drammatica notte del 13 agosto 2017 a Yorey-de-Mar all'interno della discoteca Centrop. Nell'ultimo periodo stava vivendo a Girona come se niente fosse accaduto. Aveva iniziato a lavorare in un bar come cameriere ed aveva ricominciato ad andare in palestra. Lo scorso fine settimana, mentre probabilmente già meditava la fuga in vista dell'udienza di carcerazione che nelle scorse ore avrebbe potuto riportarlo in cella, aveva proseguito nella sua routine. Poi negli ultimi tre giorni era sparito nel nulla. Nessuno aveva avuto più sue notizie neppure l'avvocato difensore che negli ultimi mesi aveva continuato a ripetere come un mantra che Bissultanov vuole pagare per quello che ha fatto e non ha alcuna intenzione di sottrarsi alla giustizia. Il giudice del Tribunale di Girona che lo aveva condannato alla pena minima per il reato commesso non ha potuto fra altro che emettere un mandato d'arresto internazionale entrato in vigore proprio in queste ore. Difficile in ogni caso ipotizzare dove possa essersi nascosto il Ceceno condannato per omicidio. L'ipotesi che però più spaventa la famiglia di Niccolò Ciatty è quella di una fuga in Russia, l'unico luogo dove Bissultanov potrebbe sentirsi davvero al sicuro. Magari come Ceceno lo manderanno in guerra in Ucraina, ha affermato Luigi Ciatty, il padre di Niccolò, ma intanto l'ha fatta franca, ha massacrato mio figlio, si è fatto gioco di me e della giustizia.